A Busseto, nella terra di Giuseppe Verdi e di Giovannino Guareschi, si sta svolgendo in questo weekend lungo per la doppia festa la seconda manifestazione dopo quella di ottobre della quarta edizione del Maiale in Tavola, la fiera agroalimentare e della miglior norcineria con la mostra a mercato tradizionale lungo il centro storico dell'incantevole paese della provincia di Parma. Con un evento di assoluta rilevanza, un convegno dal titolo A Tavola con Peppone e Don Camillo, che con illustri relatori ha saputo coniugare le pagine ghiotte guareschiane e la tavola della bassa. Tutto legato al territorio è quello che per noi è una cultura, che è quella della tavola e del cibo. E' cosa di meglio che il teatro di Busseto per ospitare questa giornata, Peppone e Don Camillo a tavola, quindi ci sarà da divertirsi, da ascoltare della musica, ma soprattutto si parlerà di quelle che sono le specialità di questo territorio ormai conosciute in tutto il mondo. Oggi parliamo di Giovannino Guareschi, che è lo scrittore italiano comunque più tradotto nel mondo, nel maggior numero di lingue nel mondo. E' collaterale non tanto alla fiera enogastronomeca Maiale in Tavola, non è tanto la festa del maiale, ma è la festa del norcino, ossia dell'uomo che lavora le carni, le trasforma in modo eccellente, direi a livello artistico. Un momento importantissimo, rilanciare e parlare di cultura oggi in Italia è sinonimo sicuramente di qualità, qualità di vita, qualità di un territorio. Con queste manifestazioni noi intendiamo legare quelle che sono le tradizioni della cultura e le nostre eccellenze agroalimentari sono altrettanto eccellenze conosciute in ogni angolo della terra. Niente come la gastronomia oggi ci identifica e siamo alla ricerca e al mantenimento delle nostre antiche tradizioni. Queste terre dove i maiali selvatici erano già presenti milioni di anni fa, o quasi, dove la vite e la selvatica, la brusca o l'ambrusco era presente, vino e maiale sono i punti principali, fondamentali, dove l'identità di questa bassa parmigiana con le sue caratteristiche. La cosa strana e il grande paradosso è che in una terra così difficile, che respira situazioni meteorologiche strane, nascono prodotti più incredibili e questa è la grande valenza, secondo me, del genius logic, della bassa parmese ma anche di tutte le basse del mondo. Parlavamo di ragionare, ragionare sul cibo è importante perché se non c'è la benzina la macchina non funziona, questo me lo diceva la mia mamma. I ragazzi di oggi, per esempio, bisogna spiegarglielo che per esempio i dinosauri non avevano il computer e rimangono scioccati perché dice come si fa a vivere senza computer? Si può, basta mangiare bene. Ora stiamo per vedere all'opera Angelo, uno degli esperti, l'artista, possiamo dire, della spalla cotta. Abbiamo proprio davanti la spalla fumante. Oggi sarebbe la nostra fiera che abbiamo qui, che si chiama il Mayan in tavola e adesso qui sto preparando la spalla per far vedere questa gente qui perché questo qui è un grande prodotto.